veto assoluto il silenzio delle stelle attraverso maria teresa g a cura di vb entità tommaso speravo di poter dare seguito al mio racconto riguardo ai miei viaggi interspaziali e forse di potere descrivere almeno parzialmente ciò che ho visto e vissuto su un certo pianeta ma ho ricevuto un veto assoluto mi è stato soltanto permesso di dirvi che la civiltà cui alludo ha lasciato segni cruenti orribili sulla nostra terra e che alcune persone sono state prelevate e trattate alla stregua di cavie non meravigliatevi di ciò pensate di questi esseri come penseresse di un archeologo alla ricerca di ogni reperto meglio se di natura umana da analizzare confrontare sviscerare con ogni mezzo sono assolutamente amorali il paragone comunque non è perfettamente calzante in quanto gli studiosi di archeologia trattano i reperti con estrema cautela e accuratezza mentre quegli esseri non retrocedono neanche di fronte ad una esecuzione sommaria se serve alla raggiungimento del loro obiettivo altro non posso rivelare e non so quanto di più la vostra capacità di intuizione riuscirà ad aggiungere ancora una volta ribadisco con forza che tantissime sono le creature esistenti nel cosmo e tantissime sono le patrie le culture i progressi scientifici le insufficienze spirituali e tantissimi gli accadimenti in programma